Iole Santelli è il nuovo presidente della regione Calabria, può vantare un primo record, sarà la prima donna, a rivestire l'incarico di presidente della regione per i prossimi cinque anni. Dunque nessuna sorpresa rispetto alle previsioni della vigilia rimane confermata. La tradizione dell'artenanza in Calabria tra coalizioni è dal 2000, da quando è stata introdotta l'elezione diretta del presidente, che due principali schieramenti si alternano alla guida della regione. D'altronde la mancata previsione del voto di giunto nella legge elettorale calabrese, unita al dato di un centrodestra che poteva contare sulle doppio delle liste 6 rispetto alla coalizione di centrosinistra, avevano già indirizzato la competizione in una precisa direzione. Il principale competitor della fedelissima di Silvio Berlusconi, l'imprenditore Pippo Callipo, comunque non sfigura e raccoglie quasi un terzo dei consensi espressi. Un risultato tutto sommato in linea con le aspettative dello Stato Maggiore del PD, che potrebbero confermare la palma di partito più votato. Al Nazareno, a partire dal segretario Nicola Zingaretti, tutti erano ben consapevoli di giocare una partita tutta in salita, caratterizzati dalle divisioni dei mesi scorsi e dal braccio di ferro ingaggiato con il presidente uscente Mario Oliverio, rimasto fino all'ultimo momento in campo. Resta da capire chi vincerà il derby interno tra la lista ufficiale del PD e quella dei democratici progressisti sostenuta dai custodi del presidente uscente Mario Oliverio.